Finalmente siamo arrivati a parlare del CEO, tutti i modi per poter far soldi, tempi e profitti Allora, non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito Mates Workclosure su internet, andiamo a cercare l'ufficio, comprate il più economico Non cambia niente l'uno dall'altro, è semplicemente più bello l'edificio, gli interni sono esattamente uguali Prendete la Mates Bank, costa un milione, fatelo, risparmiate almeno 500.000 dollari e siete a posto Una volta che comprete il CEO, entrate, vi sorvierete una spiegazione abbastanza lunga, aspettate e dirigetevi al computer Una volta che siete al computer o vi dà automaticamente il sicuro servo oppure dovete attivarlo prima e poi mettervi al computer Questa è una minima cosa che personalmente non mi ricordo Dunque, potrete fare tre cose, casse, import-export oppure missioni dei veicoli speciali Cominciamo con le casse Per poter fare casse abbiamo bisogno di un magazzino, ok? I magazzini si dividono in tre tipi, piccolo, medio e grande Piccolo può contenere fino a 16 casse, medio, 42 casse e grande fino a 111 Possiamo avere un totale di 5 magazzini in contemporanea A differenza del Motorcycle Club che avremo un magazzino d'erba, un magazzino di coca e via discorrendo Per poter attivare le missioni dovremo sufficientemente selezionare un magazzino che abbiamo Ci comparirà un menu in basso destro e ci chiederà che tipo di casse vogliamo comprare Ovviamente dobbiamo comprare queste casse e poi rivenderle, non le ruberemo Possiamo comprare una cassa, due casse o tre casse insieme Andremo poi a vedere una tabella dove vedrete che cambierà in base alla vendita o in base alle scelte che facciamo adesso Ok? Quindi, quando decideremo che tipo di casse comprare Ci attiverà una missione che durerà circa 5-7 minuti Completata questa missione, ovvero riportando le casse sane e salve al magazzino Dovremmo aspettare 5 minuti per poterne fare un'altra Se però siete abbastanza sgamati per avere un altro magazzino Possiamo andare nell'altro magazzino e fare comunque la missione Ok? Il tempo d'attesa è per lo specifico magazzino Non vi ho parlato dei costi I costi... mi è parso di comprare il magazzino piccolo a 150.000 dollari Forse c'erano gli sconti Comunque minimo 200.000 ve l'ho portata a casa Sui 500-700.000 il magazzino medio E oltre il milione, forse anche 2 milioni, il magazzino grande Ok? Potete andare avanti solo di piccoli volendo O piccolo o qualche medio E uno grande Dunque, avendo parlato in breve di cosa consiste le casse Ovviamente per vendere andremo poi a selezionare Vendiamo Cerchiamo di vendere Ovviamente dobbiamo vendere per forza in sessione pubblica Quindi cerchiamo di sopravvivere E diciamo che il circolo delle casse è molto molto semplice Voglio però farvi vedere la tabella delle tempistiche Come potete vedere Abbiamo il costo e le emissioni del piccolo warehouse Il medium e il grande Ok? Quindi 16, 42, 111 casse Queste sono le opzioni che vi dicevo Se decidiamo di riempirlo uno alla volta Quindi una cassa alla volta Se decidiamo di riempirlo con due casse alla volta O con tre casse alla volta Avete il costo che è una cassa alla volta è due Due casse è 8.000 Tre casse è 18.000 Allora, se volessimo riempire il piccolo magazzino Ok? Con una cassa sono 16 missioni 8 missioni 8 missioni o 5 missioni La differenza però sta in quanto spendiamo Ok? Quindi questa è la tabella di quanti emissioni ci serve per riempirlo E quanti soldi andremo a spendere Se andiamo invece a vedere la tabella Per quanti soldi possiamo fare Sempre stesso concetto Una cassa, due casse, tre casse Ok? Prendiamo caso per il piccolo warehouse Avremo, vedete Un introdito maggiore per singola cassa Ok? Se invece le vendiamo Più casse vendiamo insieme Quando le missioni che abbiamo fatto Quindi vuoi fare una cassa alla volta Due casse alla volta O tre casse alla volta Ci vuole sicuramente più tempo Per riempire un magazzino piccolo Ad una cassa alla volta Ma andremo a far più soldi Però ovviamente Il numero di missioni Di base è tre volte tanto Di conseguenza non vale il tempo Ok? Dobbiamo fare tre volte il tempo Quindi magari anziché 20 minuti Un'ora di tempo per guadagnare 60.000 dollari in più Quindi la cosa migliore Per massimizzare tempi e ricavi È semplicemente continuare a comprare Tre casse di tre casse di tre casse E poi vendere Come potete vedere Si guadagnerà di più Con il magazzino grande Perché ogni singola cassa Andrà ad avere un valore Più alto Però si può cominciare in piccolo Se non avete soldi Poi comprate anche un magazzino grande Come vi ho detto Si possono avere fino a 5 magazzini Quindi non è un problema Potete avere magazzini piccoli Medi e magari uno grande Dunque parliamo invece dell'import-export Che è il vero fulcro del CEO Ormai da quando è uscito Dovremo munirci di un garage I garage cambiano di costo Esclusivamente per la posizione Non cambia nient'altro Possono contenere al massimo 40 veicoli Tutti Quindi non cambia niente Prendete il più economico Il più costoso È molto comodo Perché è in una posizione vicino all'autostrada È in zona casino Quindi molto facile da raggiungere E non ha edifici alti Quindi nel caso usaste il Cargobob È molto comodo Per portare le macchine Con appunto il Cargobob Tuttavia Non vale la spesa Di quasi un milione e mezzo in più Di conseguenza Continuate ad usare Il meno costoso Alla fine Non hanno migliorie A differenza del CEO Che non vi ho detto Che si può migliorare Scusatemi A differenza delle casse Di cui si può migliorare I veicoli con cui andremo a disportarle Non ci sono migliorie Per quanto riguarda L'import-export E non può essere derubato Come i Come i magazzini dell'MC Quindi possiamo star tranquilli Abbiamo circa 20 missioni differenti Per recuperare un veicolo Quindi noi andremo Sempre al computer del CEO Non lo faremo dal magazzino Andremo al computer del CEO E selezioneremo ovviamente Import-export Ci aprirà una missione Abbiamo possibili 20 missioni da fare Di vario genere Rubare da una scena del crimine Piuttosto che rubarlo Da una gang rivale Eccetera eccetera Tenete a mente che Gli altri player in gioco Potrebbero rubarvi il veicolo Per venderlo o alla polizia A 5.000 dollari Oppure per portarlo nel loro garage A meno che Non abbiano già Quel veicolo Con quella targa Una cosa molto utile Se avete già il Cargobob O nel caso di C.S. Di comprarlo Prima di partire con la missione Potete attivarla Andate dal vostro Dal vostro assistente O dalla vostra assistente Vi fate spawnare Il Cargobob sul tetto Uscite con l'ascensore Sull'heliporto Prendete il Cargobob E fate la missione Il Cargobob costa Se non mi sbaglio 1.700.000 Quindi è sicuramente Un investimento Abbastanza importante Ma se riuscite a prendere Le macchine Mentre vanno Se diventate molto pratici Con il Cargobob Con queste missioni Vi salva sicuramente Molto 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 tempo Possiamo esportare Fino a 4 veicoli alla volta Ovviamente gli associati Dovranno essere Dentro il magazzino Dell'import export Quindi Le missioni si attivano Dall'ufficio del CEO Le vendite Sia per casse Che per import export Si fanno Dai rispettivi magazzini Quindi Se volete esportare 4 macchine Dovrete avere altre 3 persone Altri 3 associati Che sono Dentro il vostro stesso magazzino Altrimenti Non potete far niente Abbiamo 3 tipi di esportazione Ok Che sono Privato Showroom E dealer Di cui adesso parleremo Intanto Vi faccio vedere a schermo Quella che è La tabella Appunto Del Come si chiama La tabella Di questi 3 tipi di esportazioni Quindi vedete Vedete Private Showroom O specialist dealer Per quanto riguarda Standard Mid Top range Vabbè Noi vogliamo vendere solo Macchine di fascia alta Quindi Se la vendiamo privata Avremo 40.000 dollari Non sono 60.000 dollari Ma sono 60.000 Quindi 50.000 dollari Per lo showroom E 60.000 dollari 80.000 Per il dealer speciale Voi mi direte Beh io faccio sempre Il rivenditore specializzato Così sono a posto No Perché c'è il trucco Se voi fate La vendita privata È più vicina E non ha nemici Se fate la vendita Di showroom Ok Dovrete andare Prima a fare una missione Per recuperare documenti Dell'auto Dopodiché consegnare l'auto E in più potreste trovare Dei nemici Oltre fatto che ci vuole più tempo Quindi potrebbe danneggiarsi l'auto Eccetera eccetera Per quanto riguarda Il Il rivenditore specializzato Il problema è che I nemici sono tanti E la consegna è lontana Molto spesso Zona casa madrazzo E anche oltre Se avete Il magazzino Pi'economico Quindi potete capire Come A livello di Rischio Costi ricavi Abbiamo o 40.000 O 50.000 O 60.000 Io personalmente Ho sempre fatto Il rivenditore specializzato Quando mi sono messo Con i numeri alla mano Effettivamente a vedere Cosa succedeva Ho cominciato a fare Vendite private A cannone Ok Per ogni vendita che abbiamo Dovremmo avere Un tempo di gioco Che è Un tempo di gioco Di cooldown Quindi di attesa E ovviamente Come dicevo Sarà tempo di gioco Non minuti effettivi Come per quanto riguarda La produzione Dell'MC Quindi vediamo Questa tabella In base alla qualità Delle macchine Avremo un tipo di Scusatemi Non in base Alla Alla qualità Ma in base Al numero di veicoli Che esportiamo Quindi se esportiamo Un veicolo Dovremmo aspettare 20 minuti di gioco Quindi abbiamo Quante esportazioni Possiamo fare In un'ora 3 2 1 1 E quanti soldi Possiamo fare Ok Quindi probabilmente Quella cosa Che conviene di più È esportare Due macchine Alla volta Ok Allora Parliamo invece Un attimo Dello stipendio Degli associati Perché noi Facciamo i grandi Facciamo i CEO Vendiamo macchine Ma in tutto ciò Ci sono delle persone Che ci aiutano Allora Lo stipendio di un associato È di Dai 5 A 10 mila dollari Dipende Cosa si sta facendo Tendenzialmente 5 mila dollari Ogni 15 minuti Se si consegna Un veicolo L'associato Ottiene Altri 6500 dollari Ok In un'ora Un Un CEO Può fare Fino a 400 mila dollari Ok E un associato Fino a 40 mila dollari Diciamo che per l'associato Non è una cosa Non è una cosa Possiamo dire Molto Da Da leccarsi i baffi Così insomma 40 mila dollari In un'ora Non sono tantissimi Magari se ha appena iniziato Può convenire Lavorare per qualcuno Anche per persone random Che trovate in live Scusatemi Che trovate in sessione Però Diciamo che non è un lavoro Che paga abbastanza bene Paga bene invece Se esportiamo le collezioni È un altro tipo di esportazione È un altro tipo di esportazione Richiede delle macchine precise Vengono vendute Appunto come collezioni In serie E non spenderemo soldi Per modifiche Né niente In più Avremo un bonus Collezione Che va dai 50k 35k Mila Scusatemi E 20mila Di bonus La cosa bella è che Anche gli associati Prendono quel bonus Quindi se noi vendiamo Delle macchine Facciamo 400mila dollari Più il bonus di 50mila dollari 450mila dollari La cosa bella è che L'associato prenderà 6500 per aver venduto La macchina Più il bonus Della collezione Che sarà In questo caso 50mila dollari Quindi 56mila dollari Per aver venduto Una macchina Che fa parte Di una Di una collezione Un consiglio Cosa che si sente parlare Spesso online Mi è stato notificato Anche a me Durante le live È che se tenete In garage 10 macchine Di fascia bassa O media Il gioco comincerà A spawnarvi solo Cose di fascia alta Questa cosa però Magari non vi permette Di andare a completare Le collezioni Quindi dovete capire Se volete far solo Fascia alta Per fatti vostri E non dare soldi Di base ai vostri associati Oppure se Volete fare le collezioni Prendere dei bonus Non ho mai fatto Effettivamente Il calcolo matematico Se convenga di più Fare le collezioni Oppure se vendere Solo fascia alta A prescindere Considerato però La quantità di tempo Che dovete dare Per recuperare Le macchine Per una collezione Direi che convenga di più Fare questa cosa 10 macchine Di fascia media E poi tutto il resto Di import Vi sbloccherà A questa missione Non mi chiedono neanche Tantissimo tempo Sono divertenti Da fare in compagnia E il risparmio È abbondante Quindi signori Direi che per questo video È veramente tutto A parte la poca imprecisione Siccome mi sono confuso Per il cooldown Della vendita di macchine Direi che sono stato Abbastanza chiaro I prossimi video Riguarderanno L'hangar Il bunker Eccetera Eccetera Quindi ragazzi Io vi saluto E alla prossima 3 2 1 Aloha